1-3 Siete troppo alti? Siete troppo alti? Non uscire Sei solo? Sei solo? Non uscire Rolo, due minuti esci No, 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 no Maro, continua, Maro Ora, ora, bravo butta fuori ma butta fuori un attimo bravo Simo bravo, bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo uomo preparami il cargo e c'è Consoli di 5 e sempre passando dire era fuori eh no, perso dico bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo bravo, bravo, bravo 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 e tua arroyo e tua bravo 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 grande cassa vai giù vai giù vai giù vai giù bravo così così bello cazzuto grande bella Luca bella scendi capo scendi capo scendi capo 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 scendi capo scendi capo buona buona così vedo che si può se entra uscita di nuovo mister può bella bella va bene stiamo lì bravo 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 andre bravo bravo Raga non vi dovete fermare però voi due lì davanti Dovete dare una mano anche Bravo Grazie a tutti